raga da andate? che fate? ma come non ti ricordi? so io Jessica stavolta sarà un video che come come si può dire è un po strano infatti è un video che è nuovo, a me sta proprio strano comunque buona visione se ti piace un pollice in su se non ti piace beva ingiustica scusate buona visione io Jessica prendo te Ivano io Jessica prendo te Ivano come mia scusa e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni dalla vita mia io Jessica prendo te Ivano come mio sposo e prometto di esserti felice sempre fedele fedele oh già c'è prova beh oh mi sono sbagliata ti è sbagliato pure te? è proprio De Goccio io gliela sapeva nella gioia e nel dolore nella salute e nella malattia e di amarti e rispettarti i giorni della mia vita Jessica ricevi quest'anello sintomo è a simbolo del mio amore e della mia fedeltà del figlio e del del ma che ti sei ingrassato il dito? posso Ivano ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fedeltà nel nome del padre del figlio e dello spirito santo partivano se il video ti è piaciuto metti una spunta sulle notifiche così ti arriveranno tutti gli aggiornamenti metti un like magari un commento costruttivo e perché no iscriviti al mio canale ciao